Ben ritrovati al Forum Internazionale della Cultura Ludica, cuore intellettuale teorico del Festival Internazionale dei Giochi in Strada Tocatì, che quest'anno è giunto alla sua dodicesima edizione. Ringraziamo fin da ora tutti gli ospiti che interverranno durante queste due giornate e che ci illustreranno diverse sfaccettature della dimensione del gioco italiano ed estero, con particolare riferimento ai giochi del Messico, che quest'anno è paese ospite del Festival. Gli incontri si svolgeranno in quest'area nelle giornate di oggi e di domani. Ricordiamo che oggi incontreremo gli ospiti fino all'ore 13 e dalle ore 15 alle 19. Domani gli incontri si svolgeranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 e 30, concludendosi con un ringraziamento agli ospiti intervenuti. Diamo dunque inizio agli incontri del Forum Internazionale della Cultura Ludica, passando la parola a Giovanni Martes, Presidente dell'Associazione Culturale Amici del Salento di Verona, che ci presenta un intervento dal titolo La Pizzica Decore, gioco di corteggiamento e seduzione. Lasciamo la parola al Presidente del gruppo. Buongiorno a tutti, sono Giovanni Martes, sono il Presidente dell'Associazione Socioculturale Gli Amici del Salento di Verona. Sono un salentino di origine e abbiamo dato vita a questa associazione circa dieci anni fa che raggruppa una consistente comunità di salentini che per ragioni e motivi professionali o di studio vivono in questa bellissima città di Verona. Ecco, daremo soltanto qualche informazione per quanto riguarda la pizzica, la pizzica che è la coinvolgente danza della nostra terra, del Salento, che sempre più sta avendo successo soprattutto negli ultimi anni. Ecco, la pizzica è una danza tradizionale ballata nel Salento, zona della Puglia, compresa tra la provincia di Lecce, Brindisi e Taranto. È una danza simbolica e trascinante che nel ritmo incalzante del tamburello, che è lo strumento principe di questa musica, trasfigura tutta la sua passione, la gioia di vivere, quanto anche il dolore dell'esistenza di una terra di antica cultura. Esistono, ecco facciamo subito una prima distinzione, esistono tre forme, potremmo dire, tre forme di questa danza. Esiste la pizzica tarantata, la pizzica di cuore e la danza delle spade o danza dei coltelli. La pizzica tarantata è la prima, è la forma terapeutica legata all'affascinante fenomeno del tarantismo, più strettamente legata al campo dell'etnomusicologia e della scienza che ha la danza stessa. Con tale ritmo si evoca il mito vissuto drammaticamente dal morso della tarantola che rendeva furiose le donne fino a farle danzare freneticamente per liberarsi dal male interiore. Attraverso la danza il ritmo, l'euforia, la gioia esplosiva e contagiosa ci si liberava da tutte le oppressioni. Un modo di vivere, non solo di sopravvivere. L'altra forma è la pizzica de core o pizzica pizzica. Ecco è una danza fondamentalmente anche se io personalmente non sono molto d'accordo, è una danza di corteggiamento tra un uomo e una donna che mima la seduzione. Le coppie danzando nel susseguirsi di scambi intensi sguardi e giri vorticosi seguono il ritmo e il calzalte, abbiamo detto, del tamburello che danno vita ad una sensuale danza verticale tra cielo e terra, tra simbolismo e passione, in cui il fazzoletto rappresenta la conquista amorosa ed è conteso durante tutto il ballo. La danza di coppia è sostenuta dalla ronda, ecco poi magari vedremo se c'è il tempo di improvvisare una piccola ronda, una piccola dimostrazione, far sentire un po' il tamburello, questo ritmo e con le nostre danzatrici che ci faranno vedere qualcosa. Quindi la ronda è formata dai ballerini, dai musicisti e da semplici spettatori, il cerchio, la perfezione rappresenta l'energia esterna che carica la coppia e il mondo in cui avviene il rituale. L'altra forma di questa danza è, abbiamo detto, la danza delle spade o dei coltelli. certamente questo deriva da un antico rito di sfida al coltello praticato dagli uomini litigiosi che si incontravano durante le fiere, durante i mercati. L'origine del duello è naturalmente da ricercarsi nei tipici regolamenti di conti tra uomini appartenenti a famiglie di onore e in genere tra quelle categorie di persone abituate a risolvere in modo diretto le discussioni e le liti. Per fortuna, con il tempo, questo duello, cioè ai coltelli, si sono sostituiti, diciamo, ecco, semplicemente il dito medio e il dito indice e quindi si tende solo a mimare questo duello. Ecco, queste sono le tre forme in cui si articola, diciamo, questo tipo di danza. Adesso io spenderei soltanto due parole per quanto riguarda il tamburello, lo strumento principe, lo strumento principe della musica popolare salentina o ma in generale di tutto il meridione. Il tamburello è presente in quasi tutte le culture popolari della civiltà greca, magno-greca, assira, babilonese, egiziana, ebrea e romana, di cui ne resta traccia in diversi disegni, mosaici, sculture. Ecco, ma il fatto che fosse presente in questi popoli non esclude una sua origine ben più datata. Alcuni parlano addirittura del neolitico. Sì, è uno strumento che si presta a diversi generi musicali, ma si è radicato ormai nelle tradizioni musicali e folcloristiche del meridione d'Italia. Tanto nell'immaginario collettivo è diventato il simbolo per eccellenza della musica popolare. ecco, due parole per quanto riguarda la simbologia dello strumento. Ecco, il tamburello è intriso di simbolismi, è intriso di simbolismi. Anzitutto la sua forma rotonda. Il cerchio rappresenta l'universo, rappresenta il sole, l'armonia, l'ordine contrapposto del caos. Tuttavia il tamburello ha la forma di un cerchio imperfetto. Ora, qui magari abbiamo dei tamburelli, abbiamo dei tamburelli che è esattamente perfetto, però, ecco, volevo far notare in alcuni tamburelli c'è quella che si chiama l'aggiuntura, no? L'aggiuntura del materiale, del cerchio. Questo è proprio perfetto. Dal punto di vista funzionale, tale funzione serve a dare maggiore resistenza allo strumento, quindi l'aggiuntura, maggiore resistenza allo strumento in modo che non si rompa nel punto più delicato, appunto, l'aggiuntura. Ma dal punto di vista simbolico, ciò potrebbe significare la contrapposizione tra perfezione del cerchio e l'imperfezione dell'agire umano. Il simbolo richiama la storia di Aracne. L'umano cerca continuamente la perfezione, di assomigliare a Dio, ma a volte pecca di tracotanza e viene punito, tornando alla terra sotto forma di essere mostro. Questo continuo rincorrersi tra perfezione e imperfezione magistralmente sintetizzato nel simbolo del cerchio imperfetto. Quindi questo è uno dei primi simbolismi. Non possiamo, ecco, è anche curioso, diciamo due parole sui sonagli, vedete, ci sono i sonagli, questi, fai vedere. Allora, sono considerati da alcuni studiosi come una diramazione dei raggi solari, ossia come una sorta di propagazione del calore e del ritmo che il sole irradia sulla terra. Altri studiosi si concentrano sul suolo metallico dei sonagli e paragonano all'umana imperfezione, contrapposta invece alla perfezione del cerchio. Non possiamo, infine, non notare il suono del tamburello. Facciamo poco poco un ritmo. Ecco, come possiamo notare il suono del tamburello richiama in qualche modo quello del cuore e ciò ha influenzato in qualche modo i popoli antichi quali hanno associato il ritmo del tamburo al ritmo della vita. È curioso, è proprio curioso, per esempio, notare che il fatto che il tempo della pizzica-pizzica è simile proprio a quello del cuore e quindi parliamo di 70-90 battiti al minuto. se ci facciamo caso è proprio così. Ecco, allora io ho il piacere in questa circostanza, in questa preziosa collaborazione che ogni anno abbiamo con l'associazione giochi antichi di Verona, di aprire. Abbiamo aperto ieri in Lungadice San Giorgio nella bellissima location lungo il fiume Adige, lì dopo Ponte Pietra. È già da diversi anni che apriamo proprio con il ritmo del Salento, con la pizzica. Quest'anno abbiamo avuto con noi, abbiamo appunto aperto ieri sera, è stata una piacevolissima serata partecipata in cui tutti hanno ballato, quindi ci ha regalato emozioni indimenticabili. Quest'anno questo è stato possibile a un gruppo salentino, a un gruppo che è venuto da Salento e ci ha regalato questa serata. Sono lì, Ionica Aranea. Ionica Aranea. Ecco, chiedo l'intervento di una collaboratrice, è meglio che lo dite voi, qualche notizia sul gruppo. Sì, sì, solo sul gruppo e poi terminiamo con una piccola dimostrazione del ritmo del tamburello e magari facciamo vedere qua le due danzatrici qua davanti. Allora, va bene, facciamo così. Ci dicono che abbiamo ormai esaurito il tempo a nostra disposizione, quindi passerei molto volentieri a una piccola dimostrazione, a far sentire il ritmo e a far vedere un po' di movenze. Siamo pronte, ballerine? Avanti, avanti, dai Claudia. Mi sacrifico anch'io, faccio pure io, dai. Mi sacrifico io, dai. Prego, prego, coraggio, coraggio. Sì, sì, visto che ci sono altri tamburelli, avanti, dai. Suonate, suonate insieme, facci sentire un po' di ritmo. Quindi un ultimo veramente grazie al gruppo Ionica Aranea, speriamo che conserviate un bel ricordo, ma ci diamo un arrivederci perché io auspico altre future collaborazioni per il nostro futuro. Grazie ancora di quello che ci avete regalato ieri sera. Prima di iniziare la dimostrazione vorrei solo aggiungere un particolare, il riferimento ai riti di cui parlava Giovanni. Per quanto riguarda la pelle, molto spesso è stata la pelle di capra o capretto, in riferimento agli antichi sacrifici che si svolgevano nelle antiche religioni, appunto parliamo di quella greca, di quella sira, babilonese, in cui appunto venivano compiuti i sacrifici umani con capre e capretti in relazione agli invasati e comunque in relazione alle malattie mentali. Questa cosa è stata trasposta anche nel Salento e nel tarantismo, di cui magari parleremo più approfonditamente l'anno prossimo. Grazie. 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 Ringraziamo Giovanni Martes, presidente dell'associazione culturale Amici del Salento di Verona e il gruppo Ioni Caranea per il loro interessante intervento e l'interessante dimostrazione, la pizzica a decore, gioco di corteggiamento e seduzione.